Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra notizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Era una partita a rischio Brescia-Fiorentina. All'andata, in campo, se le erano date di santa ragione. Così oggi Carabinieri sugli spalti ed un arbitro, Arena di Ercolano, che ha interpretato in senso che più restrittivo non si può il regolamento. Così la partita si è trasformata in un tiro al bersaglio dal dischetto del rigore. Per quattro volte si è segnato su penalty. Rimasta in dieci per l'espulsione di Malusci dopo dieci minuti, la Fiorentina va in vantaggio al quarantesimo del primo tempo. Battistuta viene affiancato da Baronchelli. Il centravanti va giù. E lo stesso Battistuta segna il primo rigore. Dopo quattro minuti Agi dà a Sabò, che entra in area. Di sole lo spinge, o che si sembra. Ed è rigore per il Brescia. Pareggia Bonometti, che gioca la quattrocentesima partita per il Brescia. Nel secondo tempo, dopo due minuti, Giunta entra in area e viene spinto così da Effenberg. Per Arena, inflessibile e ancora rigore. Bonometti fa il 2-1 per il Brescia. Infine, al diciottesimo del secondo tempo, Schenardi vola via. L'arbitro vede meglio di noi e assegna il quarto rigore della partita. Segna Piovanelli. Finisce così 3-1 per i Bresciani. Per la Fiorentina non ci sono variazioni sul tema in classifica. Per il Brescia, un altro passo verso l'aggancio del gruppo promozione. Un ascol incisivo e concreto supera di misura il Cesena di Bolchi al termine di un incontro combattutissimo giocato su un terreno pesante che ha esaltato la maggiore prestanza atletica dei marchigiani. Un'occasione per parte nel primo tempo. Ubner colpisce male e gira a lato un buon cross di Scarafoni al quarto d'ora. Sei minuti dopo è Birov, che liberatosi sulla sinistra, lascia partire un gran tiro che coglie la parte bassa della traversa. La svolta si registra proprio ad inizio della ripresa. Su una corta respinta Cesenate, Cavaliere si libera il tiro. Biato riesce a deviare ma proprio sui piedi della corrente Birov che non ha problemi a spingere in rete. La reazione del Cesena è determinata ma disordinata e l'unico rischio corso dall'Ascoli è una mischia in area. Birov invece c'entra ancora la traversa sul colpo di testa deviato da due passi da Biato e Cavaliere proprio allo scadere pecca di egoismo concludendo da posizione difficile ed ignorando la posizione più vantaggiosa di Maini a centro area. In una domenica caratterizzata da ben 5-0-0 gli altri gol della B riguardano solo le partite di Pisa e Verona. Il Pisa sconfigge 3-0 il Cosenza frenandone la corsa verso le zone alte della classifica. Le reti tutte nella ripresa. Dopo quella di Muzzi al quarto raddoppia Polidori al ventunesimo e Cristallini poi al trentaquattresimo ad arrotondare il punteggio della prima vittoria di Eugenio Berselini sulla panchina del Pisa. Pareggiano 1-1 Verona e Palermo. Scaligeri in vantaggio con Lunini al 41esimo. Nella ripresa al secondo minuto il Palermo pareggia su calcio di rigore realizzato da Battaglia. Altro pareggio per 1-1 quello dell'anticipo di ieri tra Cireale e Pescara di cui vediamo le reti del pescarese Compagno e del Granata Lucidi. Oggi reti inviolate nelle partite Fidelisandria-Venezia, Lucchese-Modena Monza-Vicenza, Padova-Ancona e Ravenna-Bari. Fidelisandria-Venezia, Lucchese-Modena